Buone domenie, che l'amor, la pazza e la fede dal Signore, e gli entri in te vostri chiasi, tal vostri cur, e che resti. Il Vangelo di Vuel e quel di Giovanni. In che volta Gesù ha detto ai discepoli, Inveretate, inveretate us dìs, che quel che non gli entra per la porta, talcerà i disperi, ma si rimpine dentro di un'altra banda, che lì ha un lari, ha un brigante. Invece, quel che gli entra per la porta, è il pastor di disperi. Il guardiano i viaggi, gli disperi si ascoltano la sua voce, e al clame parlano gli disperi, e gli smene fuori. E quando li si appara di sfurduti, li so spiori, se il cammino è davanti di loro, e gli spiori si vanno da ora, perché che conoscono la sua voce. Non l'arri mai da ora di un foresto, ma schiamparanno lontani di lui, perché che non conoscono la voce dei foresti. Gesù ha detto queste parabole, ma loro non hanno capito, dice che l'intendeva e feve l'ora. Allora Gesù ha il continuo. In verità, in verità, us dice, o so io la porta dei spiori. E tutti quei che sono venuti per me, sono lari e briganti. Ma gli spiori non li ho ascoltati. O so io la porta. Quel che li entrarà passando per me, si salvarà, li entrarà, e li esserà, e li chiedrà passando. Il lari non li entra, che per robare, per copare, per fiscare. Io sono venuto perché vedo la vita, e la vedo in più che bondante. Allora, prima di tutto, vedi i vedi il sciarai, la che sono gli spiori. C'è quelli al di, il sciarai, la che sono gli spiori, alle sciarate, per fuorci. E al di che, qui che non li entra per fuorci, li entra tra i sciarai per fiscare gli spiori. C'è quelli al di, che gli spiori, o se non gli spiori, attenzione, e ci sono i sciarai. Di fatto, gli sciarai, a poi di inserire, di natura religiosa. Per esempio, la religione sono regole di osservare, se non tu li osservi, sale un Dio, che ti punis. Ecco. E io, tal di, spalto bene. E fra Dio e te, o so io, com'è di, la religione, il rapporto con lui. Anche ora, il sciarai, al possesso, il nostro egoismo. La che no, ovvio dei nomi, c'è che non si interessa a noi. E allora, tu as, diceri, la robe, per fatti grande, i titoli, il potere, per vedere di essi grandi davanti di altri. Ma sono tutti cose che non ti fanno contene, che la religione lì ne vive così, perché ti è lontano di altri. Oppure il sciarai, la ideologia, il partito, che tu hai fattato il chiesto per l'ora, e non tu ragioni, poi tu, e tu vasi da lui. Ecco. Un altro sciarai, al possesso, benissimo, la dipendenza di chi ha, la dipendenza che lui dì, dal vino, le droghe, oppure le persone che tu vuoi, stanno bene che mai, ma tu dipendis di lui, non tu sei libero, o che tu aspori di che persone, e tu dipendis di lui, sempre per pure. Il sciarai, al possesso, tutti, che s'rubbis lì. E allora, provincumo, a via di, c'è mut che il signor, al c'er di liberanus, di che s'rubbis lì, che non smangino la vita, e sono sassini, che s'rubbis lì. Ecco, al dìs, che il guardian, idearsi la porta al pastor, questo è il guardian, che ha il caldo il nostro cuore, e la nostra coscienza, perché se noi conosciamo il signor, o veniamo a vedere, conosciamo, che tra il nostro cuore, dove ci sono detto, è già scritto. Magari così no, ma bisogna svicinarsi al Vangelo, non basta sapere, bisogna confrontarlo, con i desideri, che sono profondi, tra il nostro cuore, ecco perché certi svolti, lo sai già che il Vangelo è lì, no, prova e passi l'ulto al cuore, tu vedrai che il signor, a lei la realizzazione, vera e concreta, dice che tu, tu crodaresis, tu volaresis, i essi. Ecco, il guardian, a lei viargisi a lui, perché la porta, la che lui all'entra, o sì no, e la porta, al saltare per dentro, a disangiettare, l'apocalisse, che lui ha tutte le porte, non sono della porta, pur di entrare, ecco il guardian, al viaggio, e gli spiori, ascoltano la sua voce, perché gli fanno, e andano dentro, ho sentito, di Dio, anche no, come lui, perché, c'è che lui ha lei, c'è che lui ha dis, no, ho sentito, che è anche n'estri, che è smut di sei, e che speraulis caldiss, e che al vai in davanti, al clame per non li sospioris, perché lui non scogliòs, un par un, e alle nostri fradi, e all'ulmenanus, fur dal Searai, che è stata l'importante, perché che, fur dal Searai, allora, lui, al puoi mettersi davanti di noi, e nessun altro, prima si chiaccarava di dipendenzi, no, scogliano dipendi, ma di nessun altro, dove di lui, ho vinto dipendi, perché lui ha il chiamine, davanti, dei spiori, e lui ha le nostre modelle, per sviluppare dentro di noi, c'è che noi, di fatto, ho sentito, o Dio, come lui non sarebbe mai, ma, ho sarebbe a nostri modi, c'è che l'era lui, figli di Dio, o so io, la porta di spiori, al giorno, anche ora, prima diceva il guardiano, che viarci, o signor, ma la porta di spiori, è la porta, in pratica, viarci la libertà, viarci, e li essi noi stessi, e se avevi fatto caso, al diis, che, che il che li entrerà, passando per me, al li entrerà, e al li esserà, e al chiatarà passando, ecco, in pratica, lui, la porta, ha le una porta, viarte, lui, non soblea là con lui, lui, ha le, sempre, a nostra disposizione, ma, può dire, là di lui, e può dire, anche schiampare di lui, ha messo a me, tanto, questo signor, chi, a una femmina, che mi contava, che il suo, un palletatore, un palletatore, però, diceva, dopo il torno di me, può essere signor, alle come, che femmina, che noi è, ne può avere femmina, che femmina lì, e sapeva di valere, indipendentemente, dal fatto, che fosse preferito, dall'ompa, così lui, lui, ha le simpre, che non spiede, o può dire, anche, che non spiede, perché, io torne di, è simpre, per i nostri bens, perché vediamo la vita, un'altra caratteristica, che è la porta, ha le, propite, che è la porta stretta, al di questo, di un'altra parte, del Vangelo, lui, all'ulco, no, non vengono, che arrivate, di carichi, di robe, di, o vengono, semplicemente, di essi nostri, che è il nostro, il capolavor, di vita, essi nostri, che, in che volte, ho sim, veramente, non ho sim, i vestiti, la carichi, no sim, che robis lì, ho sim, no, origina i duc, di modo, che, di svestiti, di duc, che vengono in plui, o rivegono a essi, nostri, calo di, realizzare, il disempo, i gran, che, po' di invece, in tenestre vite, il capolavor, poi grande, e allora, come ho prei, in propite parchele, tal non dal pare, dal fi, e dal spirito santo, amen. signor, iudinus, assaltafur, dal sciarai, de dipendenze, di quei, che, nos clamin, par robanus, la vite, dove, così, osarin, libars, qui, che, tu, tu, nos connessi, e, tu, nos clamis, par non, iudinus, arispuindi e, to clamade, parco, poded, inriva, tal, to, passon, passon, di vite, contente, che, non si fa cercare la vita plena di eternità. Tanto è vero che lui ha detto io sono venuto perché vedo la vita e la vedo in più che è bondante. Il nostro Dio ha il gusto che non è contento finché è sbonto. Ho vinto a cambiare l'idea di Dio, no? Che bisogna fare sacrifici. Sì, sì, sacrifici, nel senso che per voi bene, per esempio, ho vinto a talprimpoest lui, talprimpoest che altri. Però che ci fanno contenti di una contenteccia profonda. Hai capito? È contento, vivi la vita in forma plena, ci vuoi lì al di. All'ordine va a binore e è contento di viaggiare voi e di affrontare la giornata. All'ordine è contento di ciò così, è contento di indurare che viviamo, è contento di vita che viviamo a l'ordine. All'ordine è contento di viaggi e dove c'è che li entri per sorelli e poi voi, farlo passare qualcuno. Ecco c'è che lo dì, vivi una vita plena, è contento di tutto. Insomma, è contento di incontrare le persone, è contento di scuviarci ogni persona come un libro di lei, la che si riceve vite e si dà vite. Insomma, dà spessore vite. Ho vinto il compito di vivi e lui ha la gust di danno la vita plena. La vita, vita, tutte scritte in maiuscola, tu capite? Con lui, è successo così. Comunque ho vinto il coronavirus o di sei su altri. Attenzione, ho vinto i essi dal sciarai, di porre. Perché noi ho vinto di vivi con lui questa situazione e Dio dice che non si insegna questa situazione. C'è che possiamo imparare, so e tutto, un vivi essenziale che porta stretta. Salva la vita, la vita vera. Bene, buona domenica e mandi. Grazie.